ciao ragazze secondo video unboxing di ottobre oggi apriamo un pacco di hobby embo che in verità è arrivato ieri primo ottobre insieme al pacco con i planner ma non sono riuscita a aprirlo e volevo veramente aprirlo con calma e godermelo perché ci sono dentro un sacco di cosine bellissime che riguardano l'autunno e halloween e un po di acquisti che ho fatto oltre appunto al pacco del dt vi faccio vedere e se avete come sempre domande scrivetemi nell'info box come prima cosa ho ordinato il nuovo colore di tmolz il nuovo distress il cracking on fire è un colore veramente molto bello io ho solo aperto lo scatolone perché vista l'esperienza di ieri con la colla e la quantità di scotch che mette gen è sempre una cosa un po difficilotta da farvela quindi ho solo proprio tolto la scatola è un colore della creatazione dei rossi ma un po ruggine ve lo faccio vedere magari su carta nei prossimi giorni nei prossimi progetti sicuramente un altro colore copreso in verità un colore vecchio vecchio nel senso che dovrebbe essere uno dei primi i primi colori usciti io ancora non ce l'avevo ed è picket raspberry quindi un colore su tra rosa e il fucsia anche questo vi farò lo swatch e poi in pieno tema arancione zucca autunno halloween ho preso questo right per simon che appunto è nella gamma degli arancioni eccole qua tutti i colori risultano un po flashati oggi perché il tempo è ancora peggio di ieri è super nuvolo e quindi ho acceso un po tutte le luci per potervi girare il video eccolo qua quindi questo per quanto riguarda i colori ho deciso di acquistare un po di distress perché ultimamente mi sto divertendo col mix in media con sfumature eccetera e mi sono resa conto di non avere tantissimo nella gamma dei rossi rosa rossi fucsia di avere più colori sull'azzurro quindi man mano magari un po ogni ordine aggiungerò un colore o due passiamo invece alle collezioni allora ho ripreso qualcosa della feblesse di cui avevo già tutte le carte della collezione di halloween appunto mi mancavano però questi questi dai caz qui che alcuni contengono il foglio alcuni invece sono classici e sono tutti stupendi e poi sempre della nuova collezione dove lo lancio come al solito sul letto sapete che faccio sempre tutti i video in camera e della nuova della stessa collezione ho preso questi puffy sticker sono frasi e sono un foglio fronte retro ma sono lucidissime bellissime io amo queste scritte qui obiettivamente non credo di riuscire a utilizzarle tutte quest'anno ma essendo neri a tema halloween insomma vanno bene anche se mi rimangono poi per l'anno prossimo eccoci ma questa è la scusa perfetta tipo per lo shopping quando poi sappiamo tutte che la biciccheremo dappertutto e le finiremo in un battibaleno invece poi ho due collezioni di carte allora vi mostro una collezione vecchia dell'anno scorso che dalla crepe per almeno mi pare fosse dell'anno scorso se non sbaglio la trovate anche in sconto le ultime carte rimaste sul negozio appunto di cenne e appunto sono queste qui allora abbiamo le casettine poi tua con il retro stupendo tipo calendario dell'avvento halloween cioè non è bellissimo tantissimo poi abbiamo i gatti gatti neri ovviamente scusate sempre il discorso del flashato che vi dicevo con il dietro questi puntini regolari su sfondo crema non è proprio bianco crema poi invece abbiamo questa carta col motu e il retro bellissimo a lighe tipo pennellate in arancio e nero e poi sempre qua i regolari vari colori e il bellissimo sfondo così bold con questi 33 colori stupendo mi piace molto perché comunque i colori si sposano benissimo con la collezione di pebles vedete sono collezioni diverse di due marche diverse ma secondo me ci stanno veramente veramente bene e queste carte qui le avevo già le ho già utilizzate ho deciso di riprenderle perché intanto questa qua coi fiori è spettacolare e indietro è così poi abbiamo zucca eccoci qua con il dietro con il puntino su sfondo nero quello che vi dicevo delle collezioni che si assomigliano vediamo se riesco a recuperarlo guardate sembrano far parte della stessa collezione invece sono appunto di due collezioni diverse e poi abbiamo come ultima cosa di halloween la carta con i tag e le carte che è bellissima ne vedete due perché stupenda anche dietro cioè proprio da utilizzare tutta fino all'ultimo ritaglio un nero con le scritte bianche e questi inserti arancio proprio stupendissima e quindi con questo e di stress ho finito il discorso halloween passiamo all'autunno passiamo all'autunno io dal prossimo mese probabilmente sarà il mood natale di solito quindi presumo che sarà gli ultimi acquisti autunnali non è detto magari appunto già mi manda qualcosina d'altro ma tendenzialmente poi finito halloween io passo direttamente alle cose appunto natalizie qui abbiamo due collezioni diverse la prima collezione è della so kai e lasso full che appunto è questa la collezione qui qua un po vedete il mood dei colori e loro appunto fanno delle etichette vedete da ritagliare quindi e sono bellissime anche sul retro e 12 per fortuna così potrò ritagliarle da una parte e dall'altra poi abbiamo la striscina di etichette con le macchine fotografiche e il retro invece ha il riccio e le zucche zucca mila anche fungo me l'ero persa dal sito probabilmente attirata dal riccio dalle zucche vi dico sarà indecisione di che lato usare ma io vengo attratta sempre dal discorso macchina fotografica poi abbiamo queste etichette qui dove ci sono appunto le tag le etichettine così così le più piccoline e anche questa è fronte e retro quindi si può utilizzare di qua oppure di qua è un foglio di etichette più grande una plancia così con appunto scritte e vari scrittine sono tutte in francese ma io lo utilizzo tranquillamente ormai mi sarete abituato anche voi tra le varie collezioni francesi a utilizzarle così ma se non volete le scritte francesi dietro ci sono tutte le cornicette troppo troppo carina della stessa collezione già mi ha mandato anche questo che è carinissimo è un timbro un clear con il riccio appunto che poi se volete tembrarlo con i fiori viene così e se no appunto potete utilizzarlo separato bello 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 questi sono gli abbellimenti e passiamo alla collezione di carte collezione di carte sono cinque carte fronte e retro a me a dirla tutta me ne manca una perché faccio outing io odio gli arcobaleni e è proprio la carta con gli arcobaleni quindi ho chiesto gente se piuttosto mi mandava due di queste carte con le foglie che invece mi piacciono sia in fronte che in retro piuttosto di avere gli arcobaleni scusate so che molte di voi sono appassionate ma io e l'arcobaleno no proprio non ci siamo e detta questa questa è la carta numero uno vi mostro sempre i riferimenti la 2 immaginate vela rocobaleni perché appunto non c'è la 3 invece è un effetto water color un po come se fosse fatto con gli oxide o side dettaglio di chiama oxida l'italiana e il retro sempre anni 70 un po su sfondo verde con appunto la fantasia geometrica poi abbiamo la carta numero quattro classico autunno insomma con foglioline cose così magari sono l'urto il porta cellulare non mi viene mal di mare e il retro su un verde verdino insomma coloro un po mi pare di capire di questo autunno inverno sto guardando un po di preview anche di collezioni natalizie si vede tantissimo rosa e verdino ahimè perché a me non piace a natale adoro più i colori classici ultima carta della collezione la numero 5 è questa con etichette mette che te card scusatemi stavo guardando etichette stavo già pensando di ritagliare questa è così e il retro invece un retro neutro che si può utilizzare in qualsiasi stagione già il ne ha abbinato come solo lei sa fare due carte di florilege eccole qua in queste gradazioni delicatissime di rosa cipria e un rosa più acceso eccolo qui che si sposano proprio bene con con la collezione e hanno tra l'altro un cartoncino fenomenale già proprio quella consistenza un po rugosa non completamente liscia ma di una consistenza che non fa le pieghe spettacolari questi qua se vi possono interessare quella più chiara è la numero 14 quella un po più scura la numero 16 sul retro sono monocolore e mi piace tantissimo anche il discorso della scritta in fondo che potete ritagliare utilizzare per i progetti su sfondo nero poi 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 ultima collezione autunnale l'ho tenuta per ultima perché è proprio la collezione di hobby embo quindi la collezione c'era una volta l'autunno e io vi mostro un po di cosine intanto abbiamo una cosa di cui non sia mai abbastanza cioè alfabeti alfabeti in tre colori un colore neutro tra il marrone il grigio sapete che io quei colori sono un po basica tipo verde verdino rosa rosino tra marrone e grigio avrà sicuramente un nome più più consono ed è l'alfabeto numero uno poi di alfabeti ne ho tre in tutto uno verdino l'alfabeto numero due questo qui ovviamente sta benissimo anche con le collezioni precedenti quindi si può fare anche un mix e match e il 3 che viola vinaccia non viola proprio allovine un pochino più spento più autunnale proprio e appunto su un bellissimo cartoncino bello spesso le lettere sono anche molto semplici da ritagliare come vedete non hanno di rigori particolari quindi potete ritagliarle via di forbicina in maniera molto semplice anche per chi magari non è abituato a ritagliare particolarmente poi 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 sempre di etichette abbiamo questi fogli qui il foglio che si chiama foglie etichette il retro e bianco e a me mi dico la verità da una piada nella parte piacciono il retro colorati perché offrono più opzioni dall'altra no perché se mi piacciono tutti i due lati poi sono sempre in difficoltà taglio non taglio se poi non mi piace invece corretto bianco vado sicura allora ne ho avute due perché gen sac a me piace tantissimo tantissimo ritagliare e soprattutto le foglie ne uso una quantità imbarazzante quando mi metto e poi ci sono gli animaletti animaletti scritte le scritte sono un po in italiano sono un po in inglese e basta pensavo avessi messo qualcosa di francese invece non sono stata particolarmente attenta e poi le tac anche le tag non sono mai abbastanza quindi averle doppie è una cosa fantastica e la collezione di carte in questo caso le ho tutte quindi non abbiamo saltoni e foglio numero uno abbiamo la frutta con il retro verdino vedete che il verdino veramente il colore di di quest'anno poi foglio numero due minicard sono quelle che appunto tipo il calendario di ho vinto di halloween di prima mi piacciono molto perché potete farci un sacco un sacco di progetti e alternano scritte a disegni o a sfondi semplici e nel retro e bellissimi qua sempre puntini poi un arcobaleno nel foglio 3 ma un arcobaleno che non mi dà noia e non mi dà noia anche perché ho già un progetto in mente che prevede il ritaglio non vi dico altro e nel retro boccioline di pioggia che oggi ci stanno proprio bene fantastica poi invece abbiamo il foglio numero 4 che è tutto a foglie quindi perfetto per l'autunno con i funghetti e il retro delicato è un begino rosino sempre per il fatto della mia gamma colori illimitata poi foglio numero 5 card card piccole card normali card con scrittine e il retro con gli animaletti guarda che carini animaletti 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 e l'ultima il foglio numero 6 con questa fantasia con il centro bianco e il retro invece riprende l'alfabeto numero 3 quindi questo colore sul violino viola viola vinaccia che appunto si rincorre poi per il resto della collezione vi ho mostrato tutto questo era l'ultimo fatemi sapere cosa ne pensate trovate naturalmente tutto sullo shop un bacio per il resto